Siamo con Samantha e Marco, allevatori e proprietari di questo meraviglioso soggetto Yorkshire Terrier. Salve, lei è Grace Kelly of Exclusive Passion, ha 24 mesi, ha appena vinto il migliore di razza, ha fatto il B.O.B., è il suo terzo B.O.B. in tre gare. Siamo molto soddisfatti di lei, è un nostro orgoglio, ha vinto la mondiale a Milano come giovane femmina e diciamo che dopo tanti sacrifici finalmente si raccolgono i piccoli frutti e con la speranza che continui a crescere bene e a darci tante altre belle soddisfazioni.